Questa incoerenza tra le linee programmatiche e poi le poste di bilancio l'abbiamo già rilevata in aula, abbiamo cercato anche di migliorarla proponendo un emendamento, peraltro un emendamento politico, ma come è noto non c'è stato verso. Quindi abbiamo anche soprattutto sottolineato il fatto che grandi concerti non sono soltanto un'occasione per gli amanti della buona musica o di un certo tipo di musica, ma portano tanti turisti, anche perché Trieste è particolarmente adatta a portare persone da Austria, Slovenia e Croazia. Abbiamo proprio fatto il consigliere Cosolini in aula presentando il suo emendamento, proprio rilevato come concerti, per esempio come quello di Ligabue, non hanno spostato tante persone, essendocene altri anche in altre città italiane, mentre quelli internazionali hanno attirato moltissimi turisti e quindi sarebbero occasioni da sfruttare proprio in quella direzione lì. Evidentemente non c'è abbastanza capacità di innovazione e di flessibilità da parte di questa giunta. Noi abbiamo cercato di dare una mano, ma questa mano è stata respinta. Senta, nel libretto di Trieste Estate si parla di circa 150-160 eventi, quindi in teoria sulla carta dovrebbero essere maggiori rispetto a quelli lo scorso anno. Poi dopo andiamo a sfogliare, manca solo vedere Roberto quando fa i giri sulle macchine della polizia locale, tra gli eventi. C'è una concezione evidentemente molto artigianale della promozione turistica, della promozione culturale.